Ciao a tutti, oggi è un video, video outfit, video outfit per un'occasione come appunto può essere una cerimonia, un'uscita importante, un qualsiasi diciamo qualsivoglia occasione che ci potrà essere da maggio fino a settembre perché appunto siamo già vestiti estivi come si può notare dal video, vorrei appunto inaugurare questa tipologia di video con diciamo una rubrica all'interno che è quella di recuperare oggetti o abiti, accessori via di seguito dall'armadio perché io in questo caso questo abitino l'ho recuperato dall'armadio, quest'anno ho visto che va tantissimo questo genere di abito che poi vedrete nell'outfit ovvero più corto davanti e più lungo dietro, questo color rosa quarzo e io l'ho recuperato, ripescato dall'armadio lo lasciavo lì da anni giacere diciamo inusoato e lo lasciavo appunto diciamo inutilizzato nell'armadio però non volevo, diciamo che non ho mai avuto il coraggio di liberarmene meno male perché quest'anno l'ho ripescato, quindi ecco diciamo che ogni volta su appunto il mio outfit per occasione ci sarà anche la rubrica ripeschiamo dall'armadio qualcosa perché io creerò questi outfit non con nuovi acquisti, novità, infatti in questo outfit si ha gli accessori, sono tutte cose che già avevo in casa proprio per far capire che non importa andare sempre, 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 solo la prima chiama andare a fare shopping, però ecco per far capire che non importa andare sempre ad acquistare capi nuovi, accessori nuovi, via di seguito per, diciamo, essere alla moda, non è così, magari nell'armadio abbiamo tantissime cose inutilizzate, lasciatevi un nuovo, diciamo, un capo che è rimasto inutilizzato magari adesso è di gran moda, quindi magari noi non ce lo ricordiamo neanche più, quindi ecco diciamo che sarà una rubrica in questo genere, spero che vi possa piacere, che possa anche essere utile questo tipo di rubrica e poi ecco diciamo che è un modo per risparmiare, io creerò anche altri outfit per altre occasioni, magari fatemi sapere se vi può interessare qualche outfit in particolare e spero che vi possa essere piaciuto il video, adesso vi lascio la realizzazione appunto del mio video outfit e mi raccomando se vi è piaciuto il video lasciatemi un bel like e iscrivetevi al canale così non perderete altri miei video e niente, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimissimo video! iscrivetevi al canale! 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 iscrivetevi al canale!